Nei precedenti video della serie abbiamo analizzato sia il riempimento che il numero di loop per considerare la resistenza di un oggetto una volta stampato. Ma la base e il cappello tra virgolette del nostro oggetto? Quando parlo di base e cappello di un oggetto in realtà sto pensando agli strati pieni che verranno effettuati prima di iniziare il nido d'ape oppure il riempimento di tipo lineare. Per vedere meglio questa situazione apriamo il nostro slicer di riferimento. Aprendo il nostro amico Simplify 3D andiamo a vedere in dettaglio che cosa succede quando consideriamo la base e il cappello in particolare il suo spessore. Come vedete in questo cubetto, il solito cubetto, abbiamo impostato, andiamo a vedere, 3 strati pieni, 3 bottom layer. In particolare li vedete qui, layer. Io ho impostato 3 top solid layer e 3 bottom layer. Significa che il nostro cubo avrà 3 strati pieni prima di iniziare il nido d'ape oppure il riempimento di tipo lineare e 3 strati pieni subito dopo aver finito il riempimento. Andando a vedere in dettaglio cosa sono questi strati pieni della base e del top quindi del cappello, azzeriamo il nostro visualizzatore fino al primo strato di stampa. Vediamo. Quindi questo è il primo strato. Ricordo ne abbiamo impostati 3 prima nello slicer quindi primo, secondo, vedete come è cambiata anche la trama di 45 gradi, terzo e poi al quarto, eccolo qui, vedete inizia il nido d'ape e via di conseguenza e lui va su. Si continua, si continua, si continua, si continua, fin tanto che guardate lui chiude il nostro oggetto e abbiamo uno strato di chiusura, 2 strati di chiusura, 3 strati di chiusura e dopodiché vedete che c'è il nido d'ape di nuovo. Qui sono andato invece a ritroso quindi sono partito dall'alto e sono andato verso il basso. I vari tipi di slicer in commercio attualmente utilizzano nomenclature differenti per questo tipo di valore. C'è chi chiede di inserire effettivamente il numero di strati pieni che vogliamo, altri come ad esempio key slicer chiede proprio di inserire il valore in millimetri, di solito parliamo di decimi di millimetro. Qui vi consiglio comunque minimo 3 strati pieni giusto per evitare che ci siano fuori nella base e più andiamo su con lo spessore o il numero di strati fatti pieni più ovviamente consumeremo materiale, ci sarà anche più tempo di stampa per ottenere l'oggetto finito ma cosa otterremo? Otterremo un oggetto molto molto più resistente. Quindi andando a ritroso con i tutorial precedenti infil numero di loop e top bottom layer provate a fare due conti variando questi tre valori otterrete degli oggetti estremamente resistenti pur tenendo livelli di infil molto bassi e soprattutto numero di loop non eccessivi tipo non serve mettere 40 loop per fare un oggetto veramente resistente. Pensate che io la maggior parte degli oggetti di media grandezza parliamo di 10 15 centimetri per 10 centimetri l'istampo a 0 6 mm di base quindi generalmente tre strati pieni alla base tre strati al top un infil che varia tra il 15 e il 20 per cento e dai 3 ai 6 loop questa è la mia configurazione base poi dopo ovviamente varia in base al tipo di oggetto e di resistenza che volete ottenere. Se il video è stato di tuo gradimento lascia un commento o un bel mi piace se qualcosa non ti è chiaro scrivimelo pure qui sotto sarò ben lieto di risponderti. Se non è ancora fatto ricordati di iscriverti al canale se vuoi visualizzare tutti gli altri video di questa serie di tutorial base per la stampa 3d in alto a destra trovi la playlist con tutti quanti gli altri quattro video a disposizione. Per oggi è tutto ragazzi vi aspetto alla prossima ciao 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 Grazie.